Se vuoi conoscere i libri di cui parla questo video, clicca sull'icona che trovi a sinistra dello schermo, visualizza i prodotti e si aprirà il menu sempre aggiornato. Sono aperte le iscrizioni al convegno del professor Leonetti domenica 7 aprile a Perugia dalle 10 alle 13. Il convegno è gratuito. Per prenotarsi, cliccare ai link che troverete sotto al video in info box, nella sezione prodotti e nel sito shopcavuresoterica.it alla voce eventi e corsi. La modalità di iscrizione segue la procedura del nostro sito, quindi aggiungete il seminario al vostro carrello al prezzo di 0 euro, riempite il form con i vostri dati e procedete al checkout. Riceveremo la vostra prenotazione e vi invieremo conferma. Attenzione, i posti sono limitati, vi preghiamo in caso di disdetta di comunicarcelo tempestivamente, scrivendo un'email a cavuresotericachiocciolaiau.it o telefonandoci allo 075 57 29 198. Ringraziamo i nostri abbonati al canale, grazie ai quali è stato possibile realizzare questo evento. Grazie ancora di sostenerci. Buonasera, ben trovati. Come sempre l'antroposofia ringrazia la libreria Cavour per la importantissima ospitalità. Un breve annuncio di richiamo. Forse non tutti hanno visto il video, il promo di una conferenza dal vivo che la libreria organizzerà qui a Perugia il 7 aprile domenica e il cui titolo sarà il discorso sul metodo. Naturalmente chi è interessato trova tutti i dati sulla Cavour, credo che ci sia ancora qualche posto disponibile. Oggi siamo alla conferenza conclusiva della trilogia sui defunti. Non pensiate che io non mi renda conto, in un certo senso, dell'anomalia di questo seminario, perché nove mesi per tre conferenze è praticamente un parto. Però non lo farei se ne fossi assolutamente certo, perché il metodo è decisivo. Non a caso si è presentata l'esigenza di scegliere una domenica di incontro proprio su questo tema. Non bisogna mai dimenticare che quello che qui è una conoscenza, nell'aldilà diventa una realtà. La luce del pensiero qui si manifesta in concetti, rappresentazioni, di là si manifesta letteralmente per quello che è, cioè come luce. E viviamo della luce che ci portiamo. Ludo Steiner arriva addirittura a dire che l'essere umano si rincarna per poter poi vedere nell'aldilà. E questo va ricollegato a quanto abbiamo detto nelle prime conferenze, addirittura quasi 8-9 anni fa, sulla circostanza della creazione dell'uomo, cioè di un'entità di cui il mondo bispirituale aveva necessità per continuare la propria evoluzione. Quindi la conoscenza non si limita a un'acquisizione che peraltro ha la sua utilità, ma poi si trasforma in qualcos'altro, specialmente nei confronti di un problema che è già e sarà sempre di più il problema dell'uomo contemporaneo, cioè il rapporto con la paura. La paura è già una discriminante molto grave nella nostra civiltà, specialmente nella civiltà occidentale. Non lo dico come critica ma come constatazione perché penso che abbiano fatto benissimo. Il numero delle persone che mi hanno chiesto la meditazione per il coraggio è stato veramente sorprendente. E' anche sorprendente il numero degli adulti che mi chiedono poesie, preghiere verso l'angelo custode. Si sente proprio questo bisogno di protezione. Ora, la peggiore delle paure è la paura della morte. Morire con la paura della morte veramente non è assolutamente la situazione migliore perché la paura si nutre di elementari vampirici che si nutrono realmente delle emissioni che una persona irradia quando è travolta dalla paura e quella della morte è la più grave. Quindi la speranza anche che un seminario così lungo, così approfondito come è possibile naturalmente, perché l'argomento è infinito, serva a tutte e due le direzioni, a fornire la conoscenza che poi diventerà luce e da eliminare questa, cioè la più grande o perlomeno a ridurre di molto la più grande delle paure. Ora qualcuno ricorderà che abbiamo concluso la seconda conferenza con questa frase in Cristo Morimur, questo è il mantra fondamentale della Rosa Croce, tuttora attualissimo. Noi sappiamo che Rudolf Steiner è molto esplicito in proposito. Dice che l'antroposofia è una via al Cristo attraverso la cosmogonia, cioè la descrizione degli universi precedenti e futuri. Non basta, dice, quanto avrai capito del Cristo, tanto avrai capito dell'antroposofia e viceversa. Ora io non vorrei mai che questo sembri un messaggio confessionale, assolutamente no. Come abbiamo già detto, un giorno il Cristo sarà studiato nell'ambito anche delle forze che rendono possibile la nostra vita e la nostra rivoluzione. Nel caso specifico, il dottore dice trovare un rapporto opportuno, e su questo aggettivo naturalmente c'è molto da studiare, col Cristo durante la vita terrena ci permette nell'aldilà di sentirci come individui spirituali in mezzo ad altri individui spirituali. Sostanzialmente il Cristo ci permette il ricordo di chi eravamo. Oggi finalmente affronteremo il tema dello spazio e del tempo. E a proposito, prodromica subito un'affermazione così coincisa ma pertinente a quello che stiamo dicendo. Nell'aldilà non c'è spazio, si vive nel tempo e il rapporto col Cristo trovato sulla terra permette di vivere nel tempo coscientemente. Ora vedremo come e perché. Noi sappiamo che il Padre è il Dio dello spazio, cioè di tutto quello che poi assume una dimensione esteriore, tutto nel cosmo. Il Figlio è il Dio del tempo. Nasce dalla sfera solare, nella quale, lo approfondiremo, il Dottore dice esplicitamente, nel Sole viene tessuto il tempo dalle gerarchie che lì vivono. Quindi, dovendo andare a vivere molto tempo prima della successiva rincarnazione, esclusivamente nel tempo, è chiaro che questo rapporto diventa decisivo. Ne abbiamo anche parlato in passato, per esempio ricordando, forse ancora una volta di troppo, la frase che Omero mette in bocca ad Achille nell'undicesimo, credo, undicesimo canto dell'Odissea. Meglio un giorno da mendicante sulla terra che un secolo da imperatore nell'aldilà più o meno è questo. Quindi già nell'epoca greca il post-mortem era vissuto molto male, proprio per questo motivo. Mancanza di luce e mancanza di coscienza. E non si può dire che non avessero la conoscenza i saggi greci di tutta l'enorme tradizione spirituale precedente. Non è credibile. Del resto, lo stesso Buddha, tra le grandi sofferenze che l'uomo deve imparare a evitare, ci mette la morte. Sicuramente non si può riferire soltanto al momento della morte, perché tante volte avviene nel sonno, per esempio, malati sfiniti, molto anziani, e non se ne accorgono nemmeno, oppure malati molto sedati, eccetera. Si riferisce proprio al post-mortem, in cui, secondo lui, per conseguenza del modo in cui si vive attraversati da passioni sulla terra, non si può vivere un post-mortem come dovrebbe essere, come lui suggerisce, raccomandando di eliminare l'impulso a reincarnarsi, cioè nella beatitudine dei mondi spirituali. E non è impensabile che Buddha non conoscesse tutta l'immensa ricchezza del misticismo orientale, che, in quanto tale, conserva tutto il suo valore. Nessuno si sognerà mai di negarne nulla. Parlo dei Veda, della Gita, delle Upanishad, tutte cose che conoscete meglio di me. Quindi, questo che sto dicendo non è contro nessuno, è un dato nuovo che si è inserito nell'evoluzione dell'umanità e che prima non c'era, e che permette quindi questo diverso rapporto nell'aldilà. Qualcosa deve essere trapelato anche nell'epoca, nella mente materialistica dell'uomo, perché comunque sia, la società ha accettato di dividere la storia in prima e dopo Cristo. Ora, la domanda più precisa è, ma che cos'è veramente? Chi? L'entità che sopravvive alla morte e fa questo immenso viaggio che andremo a descrivere? Chi è il defunto? è la sintesi della personalità terrena che ha sviluppato in 60, 70, 80, 100 anni di vita come Mario Rossi, Luigi Bianchi o Giuseppe Verdi e che è, ricordiamocelo bene, lo scopo dell'incarnazione dell'uomo sulla Terra. Tutto il nostro futuro, la nostra evoluzione spirituale punta ad arricchire questa personalità, a portarla in condizione di includere sempre di più del sé spirituale e dei mondi spirituali, perché è da questa che viene quel futuro, quella nuova energia di cui il cosmo, l'evoluzione, la Terra hanno bisogno. Quindi è estremamente importante. Quindi questo è naturalmente il sé spirituale, cioè quella parte che si incarna e si è già rincarnata molte volte in ognuno di noi. Poi, come abbiamo già detto, c'è anche il corpo astrale nel quale vive anche sulla Terra da persone incarnate l'Io, più la personalità si è sviluppata secondo i parametri cosmici delle tre grandi autostrade, la morale, il buono, la conoscenza e il vero, l'arte e il bello, più sarà compatibile col sé spirituale che vive in queste tre di autostrade stabilmente e si potrà conservare. Ora, è fondamentale in tutto questo che una personalità che abbia vissuto bene lascia questo mondo con la certezza che dovrà reincarnarsi, perché è una necessità assoluta. In tutto il cosmo non c'è nulla che possa sostituire il passaggio sulla Terra. Quello che si può guadagnare in 60, 70, 80 anni, qui in un corpo fisico e purtroppo anche perdere, non si può guadagnare da nessun'altra parte. Se malauguratamente il defunto dimentica questo, perde subito l'Io. Non è possibile più conservare la coscienza. Ma in una vita ben spesa addirittura si muore con un'aspirazione occulta, in questo caso occulta, di rinascere nella stessa costellazione. Che vuol dire, uno lascia questo mondo a febbraio, magari sotto i pesci, e ha questa aspirazione a rincarnarsi poi sempre sotto i pesci. Questo a volte è possibile, a volte no, perché il karma richiede invece rincarnarsi di nuovo in un'altra costellazione. Però ha una sua importanza, non secondaria. Perché noi qui sviluppiamo il senso dell'individualità, perché la scintilla divina è stata calata in un corpo fisico che fa lo stesso effetto di un piccolo recipiente nel quale voi lasciate cadere alcune gocce di liquido colorante che immediatamente colora tutta l'acqua contenuta. Ecco, se invece di un piccolo recipiente ci fosse l'infinità dello spirito, la goccia d'acqua immediatamente scompare, la goccia di colore non ne rimane nulla. In incarnazioni ed incarnazioni, in perfezionamenti continui, il corpo ha permesso questo. Noi sappiamo che vediamo la nostra immagine solo se c'è uno specchio che la riflette. L'io della personalità, quello che vive 60, 70, 80 anni, prende coscienza di sé perché l'autocoscienza del sé spirituale si riflette nel corpo fisico. E il corpo fisico fa da specchio, se no voi avreste la individualità ma non l'autocoscienza dell'individualità. Da qui si capisce facilmente che se il corpo fisico si guasta, se il cervello subisce una malattia grave, il meccanismo non è più possibile. Ora, quando si dorme tutto questo scompare perché io e l'astrale lasciano il fisico e non avendo più il contenitore del fisico, si disperdono nel mondo astrale, mondo devacianico, e questo comporta il fatto che dormendo non abbiamo coscienza. Come ci risvegliamo? Perché il corpo astrale è assetato di questo involucro fisico che gli dà l'autocoscienza. È lui che ci sveglia. Ha un desiderio immenso di ponderalità, cioè di materia, di peso, di gravità. Allora la domanda è, e quando si muore non c'è più questo corpo fisico e l'astrale non può neppure ricercare la ponderalità? Noi ci espandiamo, come vedremo adesso che significa, nel cosmo e la funzione viene sostituita, quella del corpo fisico, da una stella. Il dottore dice addirittura da un insieme stellare, che bisogna dire subito e ricordare, una stella è una colonia di esseri spirituali. Il fatto poi che si manifesti come una luce è un effetto luciferico che abbiamo già trattato in passato. Ora, questo significa che più noi ci espandiamo e più ci avviciniamo alla sfera stellare e più questo meccanismo funziona e tiene, diciamo così, connessa, condensata in un certo senso la nostra individualità. Ovviamente ci possono essere molti ostacoli, tanti tipi, dipende sempre da come abbiamo vissuto. Ora, il tempo che passiamo nell'aldilà, l'abbiamo detto, è molto vario. Sostanzialmente, per una persona normale che non abbia un defunto, che non abbia esercitato delle particolari discipline iniziatico, esoteriche, insomma, la persona che si è limitata a qualche interesse, forse filosofico o poco più, vive tutto il tempo che gli serve per rispondere a due condizioni. Una, i cambiamenti necessari nell'eterico e nell'astrale per poter poi organizzare un migliore assetto di vita nell'incarnazione successiva e una serie di cambiamenti sufficienti sulla Terra a giustificare il ritorno. Perché se torna dove la situazione è la stessa di quella che ha lasciato, difficilmente avrà occasioni per imparare qualcosa di più, perché si tratta di imparare cose decisive. La nostra evoluzione sostanzialmente si realizza attraverso sette stati di coscienza. Sono quelli la cosa decisiva, adesso lo vedremo meglio. Sono profondo su l'antico Saturno, sono sull'antico Sole, sogno sull'antica coscienza di sogno, ce l'abbiamo ancora tutte e tre, sull'antica Luna, oggi coscienza dell'Io, poi avremo Manas, Budi e Atma nei prossimi tre universi. Naturalmente, abbiamo già parlato, ci sono tante condizioni che possono superare questa situazione. La più clamorosa, secondo me, rimane quella di Niccolò Cusano che muore e nove anni dopo soltanto, nove anni, si rincarna come Copernico. Perché in quel caso era necessario che un certo sviluppo della concezione astronomica umana fosse realizzato in due incarnazioni vicine. Quello che però risulta sempre, in ogni caso, è che dall'aldilà si lavora molto e non è mai un lavoro esclusivamente egoistico. Si è comunque impegnati, lo dico proprio espressamente, nel bene e nel male a collaborare a fini generali dell'umanità. E in questa direzione è molto molto utile aver sulla Terra maturato veramente bene la conoscenza del karma. Perché dico maturato veramente bene? Noi abbiamo insistito tanto su questa metodica delle conferenze, della necessità di mangiare l'antroposofia, di digerirla veramente. Perché? Perché appena passiamo la soglia della morte. Abbiamo tre giorni in cui tutti i nostri pensieri, lo sappiamo, ci si squadernano intorno, abbinati agli eventi della nostra vita. Poi rimane un estratto che ci accompagna fino alla successiva incarnazione del corpo eterico, ma il resto, che è il portatore dei pensieri, si disperde nel cosmo. Nell'aldilà della testa dei pensieri dell'intelletto non rimane nulla, assolutamente nulla. Adesso poi vedremo come si forma la nuova testa. Però ci rimangono il sentire e il volere e naturalmente nella cesta che li contiene, che è il corpo astrale. Quindi perché è importantissimo digerirle bene le cose? Faccio un esempio banale. Educando un bambino a rispetto per l'ambiente, lo fate attraverso tanti esempi. Mi fate vedere il problema del riciclaggio, il problema dei rifiuti, il problema dell'esaurimento delle risorse, il problema dell'eliminazione delle specie a causa dell'abbattimento delle foreste, la mancanza di ossidio. Diciamo pure che per anni gli spiegate tutti voi, come il dottore fa col karma. Spiega quasi tutte le casiche. Ci sono sei volumi sui nessi karmici, con generazioni sui nessi karmici e altri testi ancora. A un certo punto questo bambino cresce, arriva alla pubertà, supera la pubertà. Che cosa si ritrova? Si ritrova una sensibilità ambientale autentica. Per cui in tutta la vita di fronte al problema ambiente saprà sempre come regolarsi, vedrà chi si regola male. Non deve passare attraverso il filtro del pensare. Ecco, una stessa cosa deve succedere a livello ancora più profondo quando dico conoscenza del karma. È importantissimo attraversare la porta della morte avendo sviluppato questa sensibilità del karma perché permette di assorbire, di accogliere, di sopportare i non pochi dei momenti difficili che si incontrano. Questo poi non è così vago come si potrebbe immaginare. No, no, assolutamente. Ci sono dei riferimenti che possiamo anche in numero limitato però identificare. Facciamo un esempio. Tutto quello che succederà di là, esattamente la conseguenza matematica di quello che è accaduto qui durante la vita e durante le vite precedenti, inclusi gli intervalli tra le incarnazioni. Se una persona ha vissuto in modo entusiasta, io ho sempre ammirato queste persone, ci sono, non sono tantissime, che in ogni situazione hanno questa forza di affrontare tutto con questo grande entusiasmo. È una cosa bellissima, se la sono guadagnata ovviamente. Beh, questi collaboreranno sicuramente con le entità, con le gerarchie che continuamente producono salute e bene. Perché di là si deve collaborare, non possiamo stare a girarci i pollici. Facciamo un altro esempio. Qualcuno che abbia avuto la prontezza di inserirsi veramente nella vita. Il dottor Stein ne fa sempre un esempio ricorrente. Il filosofo che impara però a cucirsi un bottone sulla camicia e poi guardi al futuro, dopo essersi inserito così bene, luminosamente, beh, questo collaborerà con le entità che portano progresso. Purtroppo c'è anche la controparte negativa. Persone che hanno vissuto sostanzialmente alla ricerca della comodità. E guardate che è una costante vastissima nella civiltà di oggi, specialmente la civiltà occidentale, ma purtroppo sta contagiando anche le altre. Comodità soprattutto interiore. Cioè non fare lo sforzo di abbandonare le tradizioni, il conosciuto, il noto, quello che si è sempre fatto, quello che hanno fatto in famiglia, quello che si vede fare altrove. Mancanza quindi di questo stimolo a coraggiosamente affrontare come è indispensabile, e comunque se l'umanità, questa civiltà vorrà sopravvivere, lo dovrà fare per forza. Ecco, non affrontare nuove visioni del mondo. Questo tipo di comodità soprattutto porta purtroppo a essere utilizzati dalle entità che hanno il compito di creare ostacoli. Gli ostacoli sono indispensabili, quindi è un compito utile, però crearli, partecipare, essere costretti a partecipare all'attività di chi crea ostacoli non è affatto piacevole. C'è anche di peggio. Chi abbia ripetutamente ignorato la voce della propria coscienza, non sono tanto pochi, purtroppo, dovrà collaborare con le entità che portano la malattia e la morte soprattutto precoce. Ma in questo caso la malattia spesso per la vita dell'anima è indispensabile. Molte malattie prevengono quella decadenza dell'anima che poi porterebbe addirittura fuori dalla corrente positiva universale, nell'abisso, sarebbe una catastrofe molto peggio di una malattia, anche se la malattia è seria. Un ultimo caso che potremmo citare. Chi ha rifiutato completamente qualunque forma di ricerca spirituale, fosse pure filosofica. Questo si ritrova a vivere su un'isola, non ha voluto sapere nulla dei mondi spirituali e nulla sa nemmeno dall'altra parte. Tutto quello che si può imparare e apprendere bisogna farlo qui, se non l'ha fatto di là si ritrova un'isola, non c'è niente intorno a lui. Ora vedete che tutto quello che stiamo dicendo sostanzialmente ricalca lo stesso discorso che abbiamo cominciato nove anni fa. Tutto, ma proprio tutto, è questione di forze. Evidentemente la persona entusiasta del primo caso ha accumulato molte forze vitali che gli permettono per esempio di affrontare disgrazie e momenti neri, conservando questo entusiasmo, anche se magari momentaneamente subisce delle flessioni. Lo stesso per chi ha imparato a guardare al futuro non è una cosa facile, l'ottimismo verso il futuro si conquista non facilmente. Quindi il discorso è quello delle forze e noi come facciamo in ogni conferenza adesso affronteremo un altro esercizio antroposofico che punta proprio a sviluppare le forze e come al solito, giriamo il tabellone elettronico, facciamo parlare Ludo Steiner perché secondo me è sempre la cosa migliore. Allora, questo è l'esercizio della calma interiore. Ludo Steiner lo definisce così, naturalmente viene dall'iniziazione dell'edizione antroposofica. Procureti momenti di calma interiore e in questi momenti impara a distinguere l'essenziale dal non essenziale. Vi porta a riflettere sull'importanza di questa frase. Distinguere l'essenziale dal non essenziale. Se noi oggi avessimo uno strumento che misura quante cose veramente essenziali sta facendo la nostra civiltà, perché tengo a ribadire che tutto quello che diciamo riguarda soprattutto la civiltà occidentale. Invece quanto facciamo di inutile, superfluo o addirittura dannoso, credo che il risultato che ci darebbe il suo strumento sarebbe preoccupante. Semplice è la regola suddetta e semplice è la sua osservanza, ma essa conduce alla meta solo se viene intrapresa con serietà e severità pari alla sua semplicità. Come sempre, l'esercizio sullo spillo, è che c'è di più semplice la concentrazione sullo spillo, sul chiodo, sul ditale, però tutto dipende da come lo fai, dalla serietà, dalla devozione, dalla concentrazione. Il discepolo della scuola occulta deve, nella sua vita quotidiana, isolarsi ogni giorno per breve tempo, per occuparsi di cose del tutto diverse da quelle che formano la sua giornaliera occupazione. E anche il modo in cui se ne occupa deve essere completamente differente da quello che adopera nelle occupazioni che riempiono la sua giornata. Questo non va inteso nel senso che ciò che egli compie in quei momenti di isolamento non abbia a che fare col contenuto del suo lavoro quotidiano. Al contrario, l'uomo che cerca nel giusto modo tali momenti di calma, osserva ben presto che da essi appunto riceve appieno la forza per il suo compito giornaliero, come abbiamo sempre detto, la vita si riempie con la vita. L'estretorismo non significa isolarsi nell'aventino esoterico e lasciare che gli altri si arrabbattino nella quotidianità. Assolutamente no. Al contrario, l'uomo che cerca nel giusto modo tali momenti di calma riceve appieno la forza per il suo compito giornaliero. È vero anche il contrario. Chi non fa nemmeno questo, e magari nemmeno gli altri esercizi, è di forze per i suoi compiti giornalieri, si accorgerà che ce n'ha sempre meno. E da qui deriva per esempio questa ricerca continua di vacanze a tutti i livelli, tranne eccezioni meritorie che sicuramente ci sono, però la tendenza è quella di svagarsi il più possibile, cioè di non doverle usare queste forze nei compiti quotidiani perché sono poche. Né si deve credere che l'osservanza di questa regola possa veramente sottrarre ad alcuno il tempo per attendere i propri doveri, e sarebbe un controsenso. Se una persona non disponesse realmente di altro tempo, 5 minuti al giorno sarebbero sufficienti. Ancora una volta tutto dipende dal modo in cui quei 5 minuti vengono impiegati. Qui c'è un errore, scappata N che non ci vuole, la togliamo per chi fotografa poi questo, perché molti lo fanno. Durante tale periodo l'uomo deve completamente staccarsi dalla sua vita giornaliera. I suoi pensieri e i suoi sentimenti devono acquistare un colorito diverso dal consueto. Questo già è esercizio, perché non è facilissimo staccarsi dalle preoccupazioni, dagli eventi che ci attendono, dai rapporti difficili con gli altri, avuti o che dovremmo immaginare di avere. I suoi pensieri e i suoi sentimenti devono acquistare un colorito diverso dal consueto. E questo è l'esercizio. Egli deve passare con l'anima e rassegna le sue gioie, i suoi dolori, le sue pene, le sue esperienze e le sue azioni. Le ripeto perché sono esaustive veramente le parole del dottor Steiner. Gioie, dolori, pene, esperienze e azioni. E di fronte ad essi deve atteggiarsi in modo da considerare da un punto di vista superiore tutto ciò che di solito sperimenta. Quindi, altra parte dell'esercizio. Noi viviamo e sperimentiamo tutti a un livello abbastanza istintivo. L'esercizio ci chiede di farlo in un modo diverso, possibilmente più alto. Basta riflettere come nella vita ordinaria si considerano le esperienze e le azioni degli altri in modo del tutto diverso da quello in cui si considerano le proprie. esperienze. Durante quei momenti di isolamento occorre perciò sforzarci di considerare e giudicare le proprie esperienze e azioni come se non fossero da noi stessi sperimentate o fatte, ma da altri. Ancora una volta il grande segreto dell'esoterismo. Il grande segreto dell'esoterismo è uscire da se stessi. Uscire almeno in qualche frangente a liberarsi di se stessi. Non pensate che sia un problema soltanto del comune chela, del peone, dei peones. No, no. Questo è un problema che riguarda per esempio molti divulgatori. Non riescono proprio a uscire da se stessi. Si proiettano sempre in quello che dicono. Questo è un esercizio magnifico in questo senso. Immaginare le proprie azioni come fatte o sperimentate non da noi ma da altri. Beh, è ben diverso, si capisce. Se io so di un fatto negativo, speriamo non tragico, successo a qualcuno, beh, mi dispiace, so ancora, ma se succede a me è ben diversa la cosa. Immaginiamoci per esempio che qualcuno sia stato colpito da una grave sventura. Quanto diversamente non si contiene egli di fronte a quella disgrazia di quello che farebbe se essa avesse invece colpito un'altra persona? È inerente alla natura umana e come in questi casi straordinari, così è nelle vicende quotidiane e nella vita. Il discepolo deve acquistare la forza di porsi in determinati momenti, di fronte a se stesso come di fronte a un estraneo. Porsi di fronte a se stessi come di fronte a un estraneo. Vedete che l'esercizio continua, non è mica facile. Prima bisogna considerare gli eventi, da una sua prospettiva diversa, con sentimenti con un colorito diverso. Adesso addirittura, come se non fossero successi a noi, ma ad altri, egli deve osservare se stesso con la calma interiore di un critico. come critici verso gli altri siamo molto accesi verso noi stessi. Se ci riesce, le sue esperienze si manifestano sotto una nuova luce, fino a che si è intessuti in esse, ci si trova legati tanto al non essenziale quanto all'essenziale. scopro, in questi momenti, impara a distinguere l'essenziale dal non essenziale. Finché uno è completamente coinvolto in azioni, dolori, gioie, pene, non ci riesce a distinguere bene qual era la cosa veramente importante e quella che invece magari era meglio trascurare. Dolore e gioia, ogni pensiero, ogni proposito, ci si palesano diversamente quando ci si pone in tal modo di fronte a se stessi. Quindi, altra parte dell'esercizio. Bisogna porsi di fronte a se stessi in un modo, diciamolo pure, artificiale, che non succede spontaneamente ma che ci imponiamo da noi. e del resto tutti gli esercizi veramente antroposofici vanno in questa direzione, seguono questo metodo. È come se per una giornata intera si fossero rimasti fermi in una località e se ne fossero, guardate, le parti piccole altrettanto da vicino come le grandi. Se io mi trovo a una certa altezza, vedo più o meno uguale una cosa che sta a un chilometro e una che sta a due, insomma, sì, c'è un po' di differenza, ma non tanta. E poi la sera, saliti sopra una vicina altura, si desse uno sguardo d'insieme sull'intera località e il rapporto fra le parti appare allora ben diverso da quando ci si era dentro. Eh, se salgo in cima, due punti distanti di 2-3 chilometri, altro che se non si manifestano chiaramente molto distanti. Con gli avvenimenti del nostro destino attualmente vissuti non si arriva a questa esperienza. Questa è una frase importantissima, perché il rischio di questo esercizio è che si ricada in quella tendenza di molti, per quanto è la mia esperienza, esoteristi, amano molto scendere in se stessi, rimuginare, cercare significati occulti, valori scomparsi, riminiscenze sfuggite, no, no, questo non serve assolutamente niente. E il dottore dice che non si arriva a farlo con gli eventi recenti, perché? Perché siamo troppo coinvolti, è troppo difficile. L'esercizio va cominciato soprattutto a livelli più accessibili. Ne occorre arrivarvi, lo dice specificamente, non occorre arrivare a poterlo fare su quello che ci è successo la mattina o il giorno prima, ma con le esperienze più lontane occorre che il discepolo della vita spirituale se sforzi di riuscirci, il valore di tale tranquilla autosservazione interiore non dipende tanto da ciò che con essa si vede, quindi quel morboso, la morbosa ricerca dei significati più o meno indiretti, no, no, quello è la parte meno importante, quello è solo il mezzo, quanto piuttosto dal trovare in sé la forza che sviluppa tale calma interiore. Lo scopo dell'esercizio è distinguere l'essenziale dal non essenziale come trovando in sé la forza che sviluppa questa calma interiore. Questo è lo scopo, tutto il resto è strumentale, è un mezzo. Quindi vedete che abbiamo studiato esercizi di concentrazione per cercare certe forze, poi la volontà per cercarne altre. I tre esercizi del sentire, equanimità, positività, speciudicatezza, per procurarci altre forze. La meditazione sulla rosa croce che punta da... La meditazione in generale che abbiamo studiato dopo è tutto punta a accumulare forze positive provenienti dai mondi spirituali regolari. Questo naturalmente si trova integralmente nel testo che ho citato. Ora, vedete che già stiamo applicando un metodo. E qual è il metodo? Beh, una parte importante del metodo è riuscire a far camminare sempre le due gambe insieme. Conoscenza, studio dei testi, ascolto delle conferenze, tutto va bene. Oggi c'è una scelta quasi infinita. Parallelamente esercizi che consolidano tutto quello che apprendiamo, perché se no se ne va da solo cancellato da se stesso, cioè dalla massa esagerata, su questo non ho dubbi, di comunicazioni che poi sono anche facilitate da mezzi di diffusione che non si sono mai visti prima. Ora, riprendendo il nostro filo del discorso defunti, siamo arrivati nelle ultime conferenze, le prime due, a descrivere la sfera lunare, la sfera di Mercurio, la sfera di Venere, sfera solare. E da qui ripartiamo. La sfera solare, poi spiegheremo i poldi sfera, perché oggi spazio e tempo li affrontiamo. Sfera solare è quella in cui si svolge la maggior parte del tempo tra una incarnazione e l'altra per la maggior parte dei defunti. Contatto con tutte le gerarchie, ma specialmente con la seconda. Exusiae, Dinamis, Chiriotetes, con questi bellissimi nomi greci. Ora, sul sole si verificano due realtà importantissime. si condensa tutto l'elemento animico della futura esistenza, si condensa, e si creano le basi del cuore. Tutte le tradizioni hanno sempre collegato il cuore al sole. Ora, è importantissimo sottolineare un momento decisivo. Una volta lasciata la sfera solare, perché il percorso continua, non c'è più nessuna sussistenza specifica di quella che chiamiamo la personalità, di cui abbiamo parlato prima, di quella collegata all'io riflesso, quella che va dal terzo, quarto anno di vita, perché prima non c'è coscienza, cioè quando abbiamo spiegato nelle passate conferenze, al terzo, quarto anno di prima, il sé spirituale, quello immortale, si ferma e irradia poi per tutta la vita. tutto quello che si forma poi fino alla morte fisica, che noi chiamiamo la personalità, da qui non ha più una consistenza in nessun caso. Molti l'hanno persa già prima, non avendo trovato un rapporto con il Cristo, non avendo vissuto, l'abbiamo detto, le tre condizioni in modo morale, non avendo avuto nessun istinto religioso, che è piuttosto raro, però l'hanno persa già prima. Ma chi è arrivato fino a qui, voglio essere ottimista, da questo momento in poi, la personalità e il sé si fondono, completamente. E tanto la personalità ha vissuto sulla terra in modo consono alle leggi dell'anima cosciente, che è proprio la parte dell'anima che accoglie il buono, la morale, il vero, la conoscenza e il bello, quindi la vera morale, la vera conoscenza e la vera arte. Dice, ma è scontato? No, affatto, affatto. Ecco, tanto questa personalità ha vissuto in pieno queste tre, tanto si può dire che si conserva anche fondendosi col sé spirituale. addirittura gli può dare un imprinting. Non vorrei esagerare, perché spia spirituale nei primi tre anni di vita è quello che porta il bambino in posizione retta, il neonato, che poi gli insegna a parlare e a pensare, quindi è un'entità potentissima. Però aspetta proprio che il corpo astrale, finito all'inizio del Kamaloka, gli porti tutti i doni conquistati, li abbiamo chiamati frutti, dalla personalità, dall'io contingente, perché vive di quelli e poi ha anche il compito fondamentale di portarli nel mondo spirituale. È felicissimo di accogliere una personalità che abbia vissuto, diciamolo pure, conseguentemente a quello che abbiamo detto prima, alla luce di quelle tre grandi direzioni, in un sano e efficiente, concreto e devoto rapporto con il Cristo. Perché evidentemente quando il dottore dice che è necessario un opportuno rapporto con il Cristo, questa parola opportuna ha molte sfumature. Ora, subentra un altro elemento fondamentale. Tutto questo non deve essere soltanto una serie di conoscenze. se uno veramente intende mantenere un rapporto con i propri cari defunti, immaginando tutto questo, in un certo senso, anticipa quella che sarà la loro strada e questo è un grande aiuto, un grandissimo aiuto. i defunti leggono i nostri pensieri se sono rivolti al mondo spirituale, correttamente, perché poi ci sono anche le forze spirituali negative. No, quelle le evitano, ovviamente. Ma il defunto, per esempio, se uno si addormenta leggendo il Vangelo di Giovanni e il Dottore, opera omnia 103, lo dico perché molti si sconfondono su quello al titolo simile del Vangelo di Giovanni in relazione agli altri tre, ma va benissimo anche quello, naturalmente, però il defunto si fa una scorpacciata che poi quasi quasi gli devono fare la lavanda gastrica. Dunque, quindi, è veramente perfettamente legittimo all'interno di una trilogia dedicata ai defunti conoscere bene il percorso che dovranno fare o che hanno già fatto se sono morti da molto tempo. Antenati, nonni, in qualche caso anche persone, conosciuto io degli amici che il padre non l'avevano conosciuto affatto perché la madre, per esempio, era morta durante il parto e quindi siamo ancora amici, abbiamo più di 70 anni, quindi per loro sono defunti già da 70 anni e se una persona sicuramente la donna è più spirituale e più morale dell'uomo in genere è l'elemento superiore della società in questo momento soprattutto e è chiaro che il defunto si può già trovare da queste parti nella sfera solare sicuramente. E comincio un'altra cosa importantissima. da questo momento uscendo dalla sfera solare si comincia a guardare la Terra con particolare intensità può sembrare un controsenso ma come ci prepariamo il defunto si prepara ad andare verso la periferia del sistema solare e sì per compensarlo perché è assolutamente fondamentale questa attenzione alla Terra per non ritrovarci come estranei quando ci rincarniamo e la stessa cosa facciamo noi qui occupandoci di defunti cerchiamo di prepararci in modo da ritrovarci come estranei quando un giorno io mi auguro voi fra 120 anni però dovrete lasciare questo contenitore carneo dovremo lasciare tutti ecco non trovarsi conoscere prima aiuta a non essere estranei dopo e si comincia dunque un viaggio importantissimo verso i limiti del cosmo adesso vedremo parlando di tempo e spazio che significa andare verso i limiti del cosmo per un defunto e qui succede un evento clamoroso qual è l'evento clamoroso che non è possibile fare questo ulteriore percorso senza la guida di Lucifero e qui qualcuno dirà ma come sono 8 anni che ci dite che Lucifero è quello che ci tira in basso ci vuole far uscire dalla nostra linea spirituale corretta ci tenta ci seduce induce le passioni le brame adesso è lui questo è uno degli esempi in cui bisogna veramente avere un pensiero mobile allenandolo con gli esercizi anche perché il mondo è molto complesso noi sappiamo che a un certo punto le entità luciferiche si sono staccate dal processo regolare dell'evoluzione del mondo spirituale e terreno questo è successo sull'antica luna come conseguenza le entità spirituali non sono state in grado di partecipare all'estrazione delle forze che poi avrebbero costruito il sole da quel quacervo iniziale che noi sappiamo era la quarta incarnazione Terra perché in un solo globo grande quanto l'orbita di Saturno era compresa tutto quello che è oggi il nostro sistema solare a un certo punto le gerarchie piuttosto evolute hanno staccato le parti più leggere e si sono costruite il sole le entità luciferiche sono quelle che hanno tentato di partecipare a questo e non ci sono riuscite e da quel punto sono retrograde ma c'è una parte di queste entità invece che è rimasta a livello precedente questa separazione ed è il lucifero superiore questo è un po' difficile forse lo capisco da accettare però non succede mai che in un gruppo tutti facciano proprio la stessa identica cosa è una normale selezione quasi dovunque e in questo caso tra l'altro è particolarissima perché dal sole verso i limiti del cosmo lucifero è una guida indispensabile dal sole verso la terra e soprattutto avvicinandosi alla terra è il tentatore è proprio lui tentazioni che sono utili non ci dimentichiamo che le prove su quelle che ci fanno crescere non c'è il minimo dubbio allevare un figlio facendogliela facile quasi avete messo una gambiale sul suo fallimento certo non bisogna esagerare però noi cresciamo grazie agli ostacoli che ci mettono quei due signori al quale il padre così dice il dottore ha lasciato mano libera proprio per questo e poi siamo così pigri e tendenti alla comodità che senza ostacoli spesso non faremmo proprio niente rimane un collegamento tra queste due sfere luciferiche sono molto lontane hanno due direzioni diverse ma non completamente separate quindi lucifero ci guida verso Marte e qui c'è un altro rapporto importantissimo se l'individuo ha vissuto bene e questo rapporto col Cristo diciamo anche a livello devozionale pure lo ha stabilito procede verso il cosmo guidato da entrambi dal Cristo e da lucifero e questo gli garantisce che quando si rincarnerà l'influenza del lucifero superiore non si trasmetterà a quella inferiore cioè al lucifero tentatore perché se qualcuno e sono non è un caso raro si lascia guidare da lucifero fino a dove bisogna arrivare al confine del sistema lucifero guida la sua luce la dà però poi quell'entità quell'anima reincarnandosi sarà molto succube del tentatore dell'altro lucifero accompagnata dalla forza del Cristo e guardate che è un fatto chimico non è un fatto confessionale non a caso l'occultismo ha sempre detto Christus Lucifer Verus perché la vera luce che non contamina e non porta quindi conseguenze limitanti è quella sua quella del lucifero se lavora da solo ce la dà ma poi si paga uno scotto ed è uno scotto pesante come minimo un'incarnazione molto egoistica e un'incarnazione molto egoistica intanto è una cosa orrenda per la salute proprio un disastro ma poi nelle incarnazioni successive produce altri danni quindi la prima sfera che si incontra è quella di Marte adesso io i rapporti tra le sfere e gli organi del corpo umano li ho già trattati nella conferenza sull'alimentazione e coscienza e saranno poi ritrattati perché già si è presentato credo abbastanza evidente dei permettendo il ciclo successivo che sarà dedicato alla fisiologia occulta per ora però approfondiamo quali sono i contenuti animici astrali che si acquistano in questo percorso soprattutto se la persona ha vissuto in un modo tale che la personalità non è stata completamente annullata dal sé spirituale o dai propri difetti cioè annullata nel senso che se il corpo astrale nel Kamaloka porta al sé spirituale una vita assolutamente inaccettabile sotto il punto di vista morale della conoscenza e dell'arte il sé spirituale non può che rifiutarlo e infatti viene rifiutato allora Marte ci dà la possibilità di apprendere i discorsi tra gli dèi Marte è proprio il pianeta della parola non a caso dopo faccio un piccolo escursus avrà una grande importanza nel rapporto tra i polmoni e la laringe chi arriva nella sfera di Marte avendo vissuto bene tutto quello che abbiamo descritto prima chi arriva in questa sfera sicuramente si reincarnerà con una grande capacità oratoria o descrittiva verbale il dottore fa l'esempio di Voltaire e non credo che abbia bisogno di presentazioni quindi da Marte ascoltiamo i discorsi degli dèi delle gerarchie la sfera successiva è quella di Giove Giove il pianeta della saggezza su Giove c'è la possibilità di ascoltare i pensieri degli dèi i pensieri delle gerarchie ovviamente chi arriverà e soggiornerà in questa sfera in modo congruo se l'incarnerà è una saggezza notevole e il dottore fa l'esempio di Giete procedendo ancora nella sfera di Saturno c'è la possibilità di conoscere i ricordi degli dèi quindi i discorsi su Marte i pensieri su Giove i ricordi degli dèi questo perché le entità che vivono nella sfera di Saturno non possono vivere il presente cioè io oggi faccio qualcosa e dopo me lo ricordo no le entità che vivono su Saturno prendono coscienza di quello che fanno solo dopo che l'hanno fatto come un ricordo non possono fare diversamente quindi sono la memoria di tutto il sistema è una memoria di altro che l'elefante per cui chi arriva in modo congro e si trattiene in modo confacente in questa sfera si rincarnerà con una memoria spettacolare c'è un esempio che basta per tutti Pico della Merandola è famosa la sua memoria a questo punto siamo arrivati alle confine del sistema solare perché come abbiamo già detto altre volte i tre pianeti più vicini Urano Mettuno e Plutone il dottore li considera acquisiti per pura meccanica orbitale anche se devo dire una volta ha avuto una certa attenzione per Urano ma non sono mai riuscito a trovare altre sue parole per spiegarla meglio perché Terra Luna Sole e i cinque pianeti i due piccoli Venere e Mercurio e i tre grandi Marte, Giove e Saturno vengono tutti dalla frammentazione di quel corpo unitario quel coacervo che è stata la quarta incarnazione del pianeta Terra si è staccato il Sole poi entità che non sono state in grado di rimanere sul Sole sono andate a crearsi altri pianeti poi si è staccata la Luna lo stesso e così sono venuti fuori la Luna il Sole Marte Giove Venere e Mercurio e pure Saturno naturalmente ora arrivati a questo limite è quasi impossibile mantenere la coscienza è già molto difficile dal Sole fino a qua ma qui credo solo rarissime personalità verso le quali ci concediamo 5 minuti di invidia 5 secondi 1, 2, 3, 4, 5 basta se no diventiamo luciferici ma veramente sono ammirevoli perché mantenere la coscienza oltre Saturno significa essere arrivati molto in alto perché? perché la zona la zona stellare la zona geodiacale è anche un po' oltre quella in cui i serafini per esempio mantengono i contatti con gli altri sistemi da lì viene l'impostazione più potente dell'essere umano le forze che plasmeranno la nuova testa vengono da lì e anche le forze del progresso cioè quando per esempio noi diciamo che dopo l'epoca atlantica è comparsa l'epoca in cui stiamo vivendo noi la posta atlantica che ha già sviluppato 5 periodi e diciamo che dal primo il paleo indiano siamo passati poi al paleo persiano le forze che hanno realizzato questo passaggio vengono da questa sfera di cui stiamo parlando ora c'è qualcosa di grandioso in tutto quello che abbiamo descritto e cioè che l'idefunto ci partecipa con una beatitudine che non possiamo descrivere in termini umani perché perché è grandioso vedere come le gerarchie creano i nostri futuri involucri terrestri corpo astrale corpo enerico è l'archetipo di quello fisico perché il defunto ci partecipa e ci partecipa anche libero da quella punta che rovina sempre tutto sulla terra che è l'egoismo perché partecipa con la stessa situazione animica sia la tua costruzione che in quella delle altre anime intorno a lui può sembrare eccessivo ma non c'è niente che possiamo fare sulla terra come per esempio altrettanto grandioso che costruire il cervello l'archetipo spirituale del cervello che avremo poi nella vita successiva i scienziati più seri riconoscono che non conoscono che non possono identificare nient'altro di più meraviglioso magnifico misterioso del cervello umano questo porta un'altra considerazione molto importante cioè in tutto questo lavoro quello è il momento in cui veramente noi realizziamo la prima di queste tre frasi ex deo nascimur che si può realizzare anche qui a livello concettuale lo stiamo facendo in questo momento ma lì si sperimenta proprio come tutto il cosmo che sottintende alla futura creazione fisica lavori per creare questo nuovo essere umano si fa veramente questa esperienza non si può fare a livello così da nessun'altra parte nemmeno incarnati a meno che non si raggiungano livelli di iniziazione molto alti è chiaro che Rudolf Steiner non aveva problemi in questo senso e da questo deriva che cosa? deriva una pienezza un incitamento un entusiasmo che sono tanto più alti quanto si è arrivati in modo evoluto a quel momento e più questo entusiasmo è alto più si conserverà nell'incarnazione successiva perché è tutto contratenato allora abbiamo parlato di sfera del sole sfera di marcia è arrivato il momento di affrontare questo tema dello spazio e del tempo per cui sono costretto a riportarvi alla scuola elementare lo devo fare perché dalle domande che mi sono arrivate nel tempo ho realizzato che alcune cose non sono chiare dunque noi sappiamo che il sistema tolemaico poteva al centro la terra conseguentemente anche l'uomo ma è lo stesso nel sistema copernicano qui do una piccola stiamo parlando dell'efisfero boreale naturalmente ecco questo è un disegno sbilenco perché la realtà non è proprio una sfera del percorso della terra ecco questi sono i quattro momenti salienti il solstizio d'inverno il solstizio d'estate l'equinozio di primavera l'equinozio d'autunno abbiamo le diverse differenti distanze dal sole perché tutto questo perché anche nella concezione copernicana l'uomo è il protagonista tutto è finalizzato su lui e quando il dottore dice che l'uomo è lo scopo la religione di tutte le gerarchie è proprio così tutte le gerarchie vivono nella religione che tende a costruire l'essere umano è il centro di tutto ma perché perché noi per esempio sappiamo che la terra terza elementare compie un'intera rivoluzione su se stessa in 24 ore perché perché originariamente questo tempo di rivoluzione era necessario per lo sviluppo dell'io umano che deve stare per una parte della giornata esposto alle sette costellazioni diurne e per un'altra parte alle cinque notturne qualcuno dirà ma noi non rispettiamo più questo meccanismo lavoriamo la notte abbiamo altro che questo dipende però dal fatto che l'uomo è stato creato proprio perché diventi un essere libero e quindi si deve anche liberare di questi ritmi cosmici che però quando è stato creato l'io erano indispensabili il risultato lo vediamo sotto gli occhi il disastro in cui viviamo è proprio dovuto al fatto che ci siamo staccati dai ritmi naturali cosmici che erano ritmi divini e non siamo ancora riusciti a entrare nei nuovi ritmi spirituali che attendono l'umanità tutto il lavoro che facciamo qui tutto ormai da anni tutto il lavoro di Antropo tutto il lavoro di Rousseau Steiner poi non si può nemmeno paragonare naturalmente tutto il sacrificio immenso di Rousseau Steiner tende proprio a questo ad aiutare l'umanità ad inserirsi nei nuovi ritmi spirituali in grado di sostituire quelli naturali che non ci guidano più perché bisognava liberarsene quindi è un passaggio molto difficile quello in cui ci troviamo possiamo dire rischioso e addirittura pericoloso la stessa cosa la possiamo dire poi per quanto riguarda il corpo astrale le quattro fasi lunari che corrispondono ai quattro tipi diversi di illuminazione della luna da parte del sole sono quelle che sono perché il nostro corpo astrale per svilupparsi aveva bisogno di un ritmo settimanale dopo sette giorni si ritrova dove era il punto iniziale come evoluzione interiore il nostro corpo eterico è stato basato invece condizionando alle sue esigenze il ritmo di rotazione della luna intorno alla terra sappiamo che la luna compie una rivoluzione interna intorno alla terra in circa 28 giorni circa poi in realtà sono 29 perché la terra si è sposta pure ma non complichiamo inutilmente il campo il nostro corpo eterico per svilupparsi inizialmente aveva bisogno di questo ritmo e infine arriviamo al corpo fisico e il corpo fisico ha bisogno di una serie di stagioni diverse che lo mettono in corrispondenza con diversi punti dell'universo eccetera eccetera che più o meno si dividono in quattro parti simili non proprio identiche che durano 365 giorni e rotti che sono appunto le nostre stagioni per cui l'estate e l'autunno sono praticamente uguali la primavera un po' più lunga e sono successive perché il corpo fisico per potersi sviluppare già su Saturno ha ricevuto un'impostazione tale per cui poi l'orbita terrestre era funzionale al suo sviluppo ora il protagonista quindi è sempre l'uomo noi quindi abbiamo l'orbita abbiamo le stagioni che abbiamo in conseguenza di due circostanze la prima è l'orbita terrestre se fosse più corta più lunga diversa sarebbero diverse e la seconda è la costante dell'inclinazione dell'asse terrestre sul piano dell'eclittica che è circa 67 gradi quindi l'uomo anche nel sistema copernicano è il fine di tutto adesso dobbiamo affrontare un altro piccolo problema che è quello delle sfere perché non è molto chiara la differenza tra l'orbita e la sfera ora immaginiamo che questa è una riproduzione del nostro sistema solare di cui chiediamo scusa subito ma è così meglio di questo non siamo riusciti a fare allora Mercurio Venere Terra Luna Marte Giove Saturno ora questa è l'orbita ammettiamo che questo sia Saturno Saturno ci mette 29 anni e mezzo per compiere l'intera orbita intorno al Sole che è questo allora questa è l'orbita di Saturno questa linea che la sfera è tutto quello che c'è dentro quindi dal punto di vista spirituale le entità le entità tipiche del pianeta Saturno sono attive in tutta la sfera che Saturno descrive del resto noi diciamo sempre che altissime entità hanno staccato le forze dal quacervo iniziale più pure più raffinate per creare il Sole e sono state delle entità altissime ma quelle che hanno estratto la Luna erano più forti superiori perché estrarre la Luna era una massa a Pumbia difficilissima ci è voluta molta più forza e sono state le entità di Saturno ora la stessa cosa la posso dire per Giove questo è Giove questo è l'orbita e tutto quello che c'è in mezzo è la sfera cioè la sfera vuol dire tutto il campo in cui orbitano le entità di Giove e quindi anche quelle di Saturno e possiamo arrivare qui infine fino alla Terra che ha la Luna intorno e noi abbiamo detto che il defunto dopo pochi giorni dopo la morte rimane nella nella sfera terrestre a lungo ma si orienta verso la sfera della Luna cioè il Kamaloka si svolge tutto in questo cerchietto qui che è la sfera della Luna che gira intorno alla Terra poi abbiamo detto che dopo di che l'anima si sposta e qui chiariamo un altro dubbio vedete c'ho scritto che dalla Luna c'è Venere e ho messo poi per in corsivo Mercurio perché per un motivo che veramente non sono ancora riuscito ad accertare sì ci sono dei sospetti ma finché non sono sicuro non ne parlo nel tempo i nomi dei due pianeti Venere e Mercurio sono stati scambiati quindi quando l'astronomia ufficiale dice che il pianeta più vicino al Sole è Mercurio in realtà per l'occultismo tradizionale di sempre è Venere per cui noi diciamo che dopo la Luna l'anima si sposta in Mercurio e poi in Venere e naturalmente per Venere è successa la stessa cosa quella che l'antronomia ufficiale chiama Venere per noi è Mercurio ora si pone qui un problema il dottore dice che il defunto sta sempre intorno a noi vive nell'aria che respiriamo noi defunto anche da secoli allora la domanda è ma se abbiamo detto che si sposta verso Mercurio Venere Terra Luna Marte che vuol dire se rimane sempre vicino a noi come è possibile che poi ciò si confermi una volta che sta per esempio nell'orbita di Saturno perché il dottore dice che il defunto amplia la sua dimensione fino all'orbita di Saturno e abbiamo visto anche oltre perciò qui adesso dovremo precisare meglio con delle frasi del dottore il defunto piano piano dilata 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 la sua essenza rimane collegato con la terra ma arriva a dilatare completamente la sua diciamolo così la sua dimensione personale fino all'orbita di Saturno e abbiamo visto anche oltre qua bisogna anche avere presente un'immagine molto difficile noi qui siamo abituati a dividere tutto a numerare tutto nei mondi spirituali non è così c'è un'unità continua in cui la diversità delle anime è dovuta al rapporto che abbiamo detto prima di collegamento con una stella guardate che anche nel linguaggio normale si dice quando in letteratura si trova spesso la sua buona stella lo aveva abbandonato questo si trova spesso oppure il contrario la sua buona stella lo aveva protetto questo perché quando nasciamo abbiamo l'imprinting di una costellazione cioè la luce delle stelle appena il bambino vede la luce c'è questo imprinting contemporaneamente però riceve anche i raggi della luce solare che sono al contempo come quelli delle stelle fisici e spirituali ora questo dura per tutto il tempo in cui si vive sulla terra in un corpo fisico e normalmente il sole per spostarsi di un grado nello zodiaco e perché il sole lo percorre tutto lo zodiaco in 25.920 anni ci mette 72 anni perciò dopo 72 anni dalla nascita noi non abbiamo più questo mixer di luce solare e luce stellare e la stella tende a richiamarci nella sua sfera cioè nell'albi là allora qualcuno subito dirà ma qui c'è tanta gente che vive più di 72 anni uno è per quel motivo iniziale che ho detto che scopo dell'essere umano è liberarsi da questi ritmi naturali sostituendoli con ritmi spirituali cosa che stiamo cercando faticosamente di fare due e ci possono essere molti motivi per cui le gerarchie decidono di donare nuova vita a un essere umano magari è indispensabile in una situazione senza di lui ci sarebbero delle conseguenze gravissime oppure non è un'anima proprio persa però non ha combinato niente si spera che se gli danno un altro po' di vita riesca un po' a elevarsi spiritualmente possono essere molti motivi quello però che è fondamentale è che dal 73 anno in poi chi arriva a 73 anni ogni giorno dovrebbe ringraziare le gerarchie per il giorno che ha appena vissuto perché è stato un dono è stato veramente un dono può darsi che poi un giorno gli venga anche concesso se solo merita di capire perché ma intanto è così è una cosa importantissima perché si mostra le gerarchie di aver apprezzato questo dono e si entra comunque in un ordine spirituale anche se si esce da quello dei 72 anni non si rimane proprio nel never never come dicono gli inglesi cioè nel nullo assoluto quindi ora dobbiamo però chiarire questa dicotomia tra un defutto che rimane vicino a noi pure quando arriva oltre Saturno e qui non mi rimane altro come al solito riportare le parole del dottore che tra l'altro è una mia costante quando in ogni forma di divulgazione ora il problema dello spazio del tempo a livello intellettuale ordinario non è risolvibile si possono essere degli sprazi ma non più di questo che significa questo? significa che c'è necessità di un'educazione particolare delle tre facoltà dell'anima come la otteniamo? ecco in questo caso secondo me il modo più diretto è quello di prendere coscienza di una serie di frasi decisive in materia che io ho raccolto nel corso di molto tempo in cui il dottore accenna al problema poi comprenderle tutte come l'esercizio della rosa croce dopodiché meditarle a lungo in questo modo si comincia ad aprire a una comprensione che supera l'intelletto perché spazio e tempo come le intendiamo noi sono dimensioni del mondo intellettuale quello cioè basato sull'io transitorio ed è giusto che sia così perché l'io transitorio ha la possibilità della libertà poi sbaglia ma comunque la sviluppa quindi adesso leggeremo le frasi che dice il dottore in proposito io poi consiglierei a chi è probabilmente interessato ad andare a fondo spazientemente di trascriverselo non deve essere troppo difficile perché molti mi dicono che se le trascrivono proprio tutte le conferenze ogni volta e che ringraziano che ci sono tre mesi tra l'uno e l'altro perché hanno tante altre cose da fare ovviamente allora leggiamo questi contenuti steineriani che sono destinati a essere meditati e solo da qui può avvenire una vera risposta convincente naturalmente bisogna un po' guadagnarsela e come al solito non dipende da noi le gerarchie devono dipendere devono decidere quanto vogliono che noi assimiliamo comprendiamo illuminiamo questo problema la vita del defunto si svolge nel tempo sono tutte frasi di Rudolf Steiner non ho aggiunto niente non lo faccio mai nella sfera solare viviamo secoli il tempo è dilatato e qui cominciamo a dover percepire un fenomeno che oggi è piuttosto sviluppato quando io ero ragazzo non esisteva per esempio oggi si dice temperatura 30 gradi percepita 33 velocità percepita umidità questo è un fenomeno abbastanza nuovo che va in questa direzione io mi ricordo da ragazzo non ho mai sentito dire temperatura percepita che vuol dire il tempo nei mondi spirituali è scandito dall'orbita di Saturno che abbiamo visto prima che era 29 non sto a rigirare tutto non c'è bisogno 29 anni terrestri e mezzo diciamo 30 perché se no diventa antipatico quindi un anno terrestre perché nello stesso tempo la serra gira intorno al sole in un anno Saturno gira intorno al sole in 30 anni quindi un anno terrestre corrisponde a 30 anni nei mondi spirituali perché lo dico adesso che il tempo è dilatato noi percepiamo a Capodanno che è passato un anno nei mondi spirituali e si ha la stessa percezione quando ne sono passati 30 già questo posiziona un po' in modo più accettabile questi grandi tempi di là diciamo non so 900 anni nei mondi spirituali e c'è una percezione di 30 anni 30 per 30 ora lo ripeto nella sfera solare viviamo secoli ripeto sempre che non ci sono regole assolute mai nel cosmo Nicola Cusano si è rincarnato come Doc Copernico due anni dopo ci sarà appena passato nella sfera solare occorre rendersi conto che sebbene la prima la seconda e la terza condizione di Saturno non si siano svolti l'una dopo l'altra nell'attuale senso della parola non possiamo fare altrimenti che descriverle successivamente in vero malgrado la loro durata o contemporaneità esse le prima la seconda e la terza condizione sono così dipendenti l'una dall'altra che tale dipendenza può essere paragonata a un succedersi nel tempo qui e non dico altro bisogna meditarla sta frase paragonata in qualche modo il dottore ci deve far capire ma quello che è stato decisivo è che c'è stato un processo escatologico uno dall'altra perché dipendevano questo è stato il vero processo da morti non esiste più spazio dobbiamo ripercorrere il tempo in cui siamo fuggiti dal cielo per vivere in un corpo fisico che vuol dire noi ci incarniamo nasce Leonardo a quel punto è fuggito dal cielo e si sviluppa un corpo fisico poi diventa adulto vive 70-80 anni e poi ritorna nel mondo da cui è fuggito quindi vuol dire che la nostra vera patria è proprio quella e non esiste più spazio no perché l'abbiamo detto prima che il defunto vive nel tempo abbiamo detto prima che il padre è il dio dello spazio il Cristo è il dio del tempo il Cristo viene dal sole perché nel sole si tesse il tempo Zaratustra aveva un'espressione fantastica che secondo me è rimasta insuperata e il dottore guardate dice che Zaratustra avrà un grande futuro nella concezione umana e dunque parlava di questa entità come il calmo fluire del tempo increato è meravigliosa questa frase io non ho trovato mai niente più bello per spiegare l'origine il calmo fluire del tempo increato ecco è lì dobbiamo tornare quando siamo defunti nel mondo spirituale contare non ha più senso il numero non significa nulla tutto è più o meno unità l'abbiamo detto prima perché se no comincerebbe a diventare quelle domande che arrivano ma come vivono nel mondo spirituale i miliardi di morti come fa no quelle sono le divisioni che fa il corpo fisico sulla terra le anime registrano altri parametri completamente abbiamo detto prima tutto è totalità ma l'individualità è tenuta ferma e salda dalla stella e l'autocoscienza dell'individualità dall'apporto con il Cristo che si è incarnato proprio per quello perché se non l'avesse fatto sarebbe continuato il mondo di cui i greci dicevano meglio un giorno da venticante qui eccetera eccetera tutti occupano lo stesso spazio ma restando distinti grazie a questo rapporto stellare pochi giorni dopo la morte sentiamo di vivere negli intorni della terra ingrandita sino alla sfera lunare e diventata spirituale e qui è stato utile il discorso che abbiamo fatto prima sulla differenza tra l'orbita e la sfera noi qui la sera guardiamo la luna illuminata a piani in uni bellissimo possiamo immaginare per esempio durante i quarti di luna mensili l'orbita della luna è un'orbita proprio fisica la vediamo che si è sposta eccetera eccetera qui no qui il defunto va verso l'orbita della luna nel senso che va verso la parte spirituale della luna cioè la sfera contenuta nell'orbita di cui abbiamo parlato prima che vuol dire che entra in contatto con chi con ciò che riempie la sfera e chi la riempie la sfera entità terza gerarchia gli antichi maestri che rimangono lì ne abbiamo già parlato nella conferenza precedente quindi pochi giorni dopo la morte quando abbandoniamo dopo tre giorni i nostri pensieri il corpo eterico al cosmo conservando solo un estratto sentiamo di vivere nei dintorni della terra ingrandita sino alla sfera lunare e diventata spirituale e la sfera è spirituale l'orbita è fisica ma la sfera no si passa dalla sfera lunare a quella di mercurio e l'astronomia direbbe a quella di venere sto sempre parlando in senso occulto non astronomico si passa dalla sfera lunare a quella di mercurio quindi non passiamo dall'orbita lunare all'orbita di mercurio quello sarebbe il discorso astronomico ci tiene proprio a specificare sto sempre parlando in senso occulto non astronomico cioè dalla preminenza delle entità lunari passiamo a convivere con un rapporto preferenziale rispetto a quelle lunari con quelle di mercurio le quattro fasi di purificazione rappresentano il dilatarsi animico sino alla sfera di mercurio qui devo rimandare a una vecchia conferenza sull'aldilà perché se no per spiegare le quattro fasi ci vuole troppo tempo comunque noi attraversiamo quattro fasi di purificazione durante il Kamaloka e rappresentano il dilatarsi animico sino alla sfera di mercurio mercurio incluso naturalmente alla fine del Kamaloka il nostro essere coincide con l'orbita della luna e questa è una frase molto difficile che significa che non possiamo fare altrimenti che descriverle successivamente l'una dall'altra tale dipendenza può essere paragonata dobbiamo usare le parole che abbiamo cercando di delimitare il corpo di un'anima aggiunta alla sfera lunare essa corrisponde all'ampliamento della possibilità di esperienza questa frase spiega quella di prima quindi cercando di delimitare il corpo di un'anima aggiunta alla sfera lunare essa corrisponde all'ampliamento della possibilità di esperienza quindi il defunto muore abbandona il corpo eterico nei tre giorni tre giorni e mezzo poi comincia il kamaloga e ha una capacità di esperienza sostanzialmente derivata dalla sua vita sulla terra più procede nel mondo spirituale più si libera più si purifica e più aumenta la sua capacità di sperimentare e contemporaneamente si allarga ad esperienze superiori cioè dall'esperienza della luna a quella di mercurio grazie alle esperienze che farà su mercurio con le entità che vivono su mercurio allargerà la sua sfera di esperienza e potrà accedere a quelle di venere la sfera successiva e di questo passo potrà arrivare a quella del sole questo è il portentoso mistero dopo la morte il defunto diventa in realtà una sfera sempre più grande ed espande la propria spiritualità ovvero le potenzialità del suo elemento animico raggiunge proporzioni immense e ci portiamo dentro tutte le esperienze vissute in un tale universo il defunto continua a stare nell'area in cui viviamo noi quello che cresce espande la propria spiritualità cioè le potenzialità del suo elemento animico più cresce più diventa accessibile entità più evolute come sono quelle che si incontrano salendo verso il limite dell'universo e quindi più l'esperienza sua cresce e tutto questo poi lo ritroviamo condensato nell'incarnazione successiva quindi è un espandersi animico delle potenzialità spirituali e animiche dell'anima non faccio capire me lo spiego però spiega anche perché bisogna morire perché se stai in un corpo fisico questo tipo di espansione è impossibile il corpo fisico devi fare cioè dei riti iniziatici che non sono semplici cioè un'iniziazione che porti a fare l'esperienza dell'entità oltre Saturno è un'iniziazione altissima i corpi che sono a disposizione oggi dell'umanità della civiltà occidentale non credo che siano tanto frequenti i casi in cui sia possibile arrivare lassù ovviamente lo stai in escluso in senso spiritualmente esteriore passare davanti alle entità delle gerarchie superiori e ricevere i loro doni è simile ad un effondersi nello spazio cosmico questa è una frase importantissima in senso spiritualmente esteriore noi siamo abituati a pensare spiritualmente come qualcosa di interiore passare davanti all'entità delle gerarchie superiori quelle che abitano in mercurio quelle che abitano la sfera di venere quelle che abitano la sfera solare e ricevere i loro doni adesso vedremo come è simile ad un effondersi nello spazio cosmico questa credo che sia una delle frasi più più rivelatrici questo è il lavoro di molti anni quando trovai questa sentivo che è arrivato un punto fermo cioè quando noi diciamo di fondersi nello spazio cosmico dal punto di vista del defunto e della spiritualità di là questo significa passare davanti alle gerarchie e ricevere i loro doni vedete che già se qualcuno ha seguito questo seminario con serietà e devozione già a questo punto dovrebbe cominciare a sentire dentro di lui che qualcosa si muove nella direzione giusta infine dal mondo spirituale non ci separano condizioni di spazio ma di coscienza se non fosse così l'iniziazione non sarebbe possibile cioè l'iniziazione è la procedura per arrivare a percepire i mondi spirituali restando in un corpo fisico vivi sulla terra e mica se può dilatare questo corpo fisico e diventare grande come l'orbita di mercurio rimane quello che è è chiaro che si dilata l'anima è l'esperienza animica e l'iniziazione sostanzialmente non è uguale non è uguale comunque si può assimilare molto al percorso dopo la morte e questo poi sostanzialmente lo ritroviamo nell'ultima frase questa la ripetiamo perché è fondamentale dal mondo spirituale non ci separano condizioni di spazio ci separano condizioni di coscienza quindi tutte le sfere che abbiamo prima descritto quelle sono tutti stati di coscienza diversi quando l'anima arriva dal sole a Marte e acquisisce uno stato di coscienza particolare delle entità marziane si dilata in questo senso ultima si cresce spiritualmente all'interno delle sfere planetarie si cresce ma spiritualmente l'iniziazione è la stessa cosa si cresce spiritualmente all'interno delle sfere planetarie qual è la differenza tra l'iniziazione antica e quella attuale nell'iniziazione antica era indispensabile uno ieri ufante e parecchi sacerdoti collaboratori verso i quali poi l'iniziazione rimaneva in debito tutta la vita e dipendente il Cristo ha portato un elemento nella terra che vive ora nell'atmosfera della terra per cui sono possibili le due cose vivere nel tempo chi trova il rapporto con lui in questa sfera e realizzare l'iniziazione da soli attraverso una guida opportuna che lui ha dato a Iosa proprio a Iosa mi dispiace vedere certe degenerazioni in tanti altri campi mi dispiace pure ovvio ma quando le vedo in campo antroposofico veramente dico ma voi l'avete letto veramente Steiner col cuore perché non basta leggere con gli occhi quelli sono buoni tutti come fate a diste sciocchezze si cresce spiritualmente all'interno delle sfere planetarie io credo che abbiamo risolto abbastanza il problema di che significa un'anima che si espande e ripeto chi vuole veramente estrarre il massimo da questo se lo trascriva piano piano lo mette avanti e mediti ste frasi regolarmente però dopo averle capite con la spiegazione che abbiamo dato insieme come l'esercizio della rosa croce prima bisogna capire il simbolo poi basta il ragionamento dell'intelletto solo la percezione del simbolo e basta il simbolo ci dirà la verità ora per quelli che sono sopravvissuti a tutto sopravvissuti a tutto questo che dicevano i miei complimenti più sinceri proseguiamo il viaggio del defunto dunque abbiamo detto che il defunto è arrivato alla sfera solare con la guida di Lucifero e del Cristo se tutto è andato bene arriva ai confini e poi a un certo punto che cosa succede? ma succede che un evento quasi temporale in questo senso cioè la mezzanotte dell'anima che è il punto centrale in mezzo a tutto il percorso dell'aldilà che si verifica dopo che già abbiamo cominciato per esempio da tempo la trasformazione della parte inferiore del nostro corpo umano in quella superiore dell'incarnazione successiva che voglio dire che abbiamo detto prima che con la morte fisica della testa non resta nulla dopo i tre giorni che servono a ricavare l'essenza dell'eterico della testa non resta assolutamente nulla comincia la metamorfosi delle forze archetipiche che sono sopravvissute al decesso fisico nella volontà e nel sentimento in questo caso nella volontà per cui le gambe per esempio le braccia diventano nella vita successiva la mandibola superiore le gambe diventano la mandibola inferiore qui mi fermo perché ripeto parleremo di fisiologia occulta in futuro sempre dei permettendo e questo processo viene esteso naturalmente a tutto il resto il futuro corpo umano finché arriva questa mezzanotte cosmica in cui si oddio anche qui dire che arriva un po' un anticipare una visione temporale che è un po' eccessiva diciamo che nell'ambito di tutte queste esperienze si verifica la cosiddetta mezzanotte cosmica non ne parlo tanto perché sulla conferenza nell'aldilà già l'abbiamo fatto che però ha due caratteristiche fondamentali una solitudine non indifferente che è meglio che l'anima arrivi a sopportare bella forte che è la conseguenza di tutta la vita precedente perché si vedono proprio tutte le entità le gerarchie che si allontanano il dottore dice che diventano come una una nuvola di moscerini che si allontana e si dissolve e l'anima del defunto il defunto si ritrova proprio solo come compenso però dentro di sé ha una pienezza che prima non aveva sulla quale si può appoggiare ce l'ha soprattutto se ha vissuto bene tutto il precedente ora prima di questo momento e anche qui prima bisogna intenderlo secondo tutto quello che abbiamo letto è già stato stabilito il karma generale della prossima vita e le persone con cui dovremo convivere perché evidentemente se dobbiamo pareggiare i conti carmici li dovremo fare con quelli con i quali abbiamo debiti o che hanno debiti loro con noi alla mezzanotte subentra un evento decisivo quale? comincia veramente il desiderio di una nuova incarnazione fisica perché? perché interviene questa terza forza che noi chiamiamo Spirito Santo nella nostra tradizione ora noi sappiamo benissimo che Deo Cristo e Spirito Santo sono tre realtà che hanno moltissime dimensioni accostarle non si può che fare proprio gradualmente perché se no se lo traduciamo in una forma dialettica si proprio brutale lo Spirito il Cristo è questo 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 no qualcuno mi dice è uscito un sumto sul 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 Buddha mi sento come un sumto che avete fatto il Buddha è uno poi il Buddha è questo mamma mia sono cose terrificanti proprio non per il fatto di spoetizzare ma perché proprio non è così che si può sperimentare la realtà di un Buddha ecco in questo caso lo Spirito Santo è ben espresso dal mantra dei Rosa Croce revivissimus cioè è la forza che ci dà l'input per tornare a rincarnarci perché fino a quel momento noi abbiamo viaggiato guidati dal Cristo e da Lucifero poi siamo usciti fuori dallo spazio planetario l'abbiamo descritto e come fa a risvegliarcela risveglia in noi il desiderio della ponderalità cioè del peso perché fino adesso tutto è avvenuto in assenza totale di peso risveglia in noi la necessità si comincia a sentire proprio il bisogno di sostanziare la propria natura il proprio destino la propria vita si può dire vita tranquillamente con la ponderalità cioè con la materia e insieme a questo illumina le vite precedenti in modo che noi abbiamo questo duplice impulso da una parte l'attrazione verso la ponderalità e dall'altra l'incoraggiamento cioè di vedere il karma che si sviluppa dalle vite precedenti per un'altra definizione dello spirito santo lo spirito santo è quello che risveglia la sensazione di divinità nell'anima del singolo i dodici i apostoli erano dei pescatori penso quasi analfabeti e dopo la pentecoste sentono dentro di loro una presenza tale dell'elemento divino che hanno l'impulso un gruppo di pescatori di andare per il mondo a testimoniarlo affrontando spesso il martirio e riuscendo a farsi comprendere da tutti perché questo significa che parlavano tutte le lingue che sono diventati poliglotti ma riuscivano a entrare nell'anima dei loro destinatari che erano pronti a ricevere il messaggio quindi ci rindirizza verso la Terra e che succede allora facciamo il viaggio al contrario ripassiamo dalla sfera di Saturno e se tutto il percorso precedente è stato fatto bene tutto vedete abbiamo detto all'inizio quello che succede nell'aldilà è la conseguenza matematica di quello che è successo qua il destino dell'uomo si decide sulla Terra l'avremo detto fino alla nausea però ripassando per Saturno se questo è avvenuto nel modo diciamo così più congruo da Saturno ricaviamo il contrario dell'entità Saturnia cioè sono entità che vivono nel ricordo bene l'entità che attraversi ritornando bene la sfera Saturnia come contrappasso acquista un grandissimo slancio verso il futuro andando magari ha acquistato una memoria formidabile ma ritornando acquista questo slancio fortissimo verso il futuro avvicinandosi alla sfera di Giove ha acquistato la saggezza ma ripassando acquista la capacità di vivere nella gioia piuttosto rara oggi e poi contato il genio del linguaggio non si sbaglia mai noi lo diciamo quello è una persona proprio allegra gioviale e perché si dice gioviale perché le grandi verità sono passate anche attraverso queste piccole testoline di noi uomini tanto presuntuosi di quest'epoca e avvicinandosi a Marte si può ricavare sempre avendo vissuto bene una forte dinamicità una capacità di azione di dinamismo di creazione attiva particolarissima e anche qui il genio del linguaggio non sbaglia noi quando abbiamo intorno qualcuno che non si ferma mai che lavorano diciamo ma questo è un marziano e perché dicevamo marziano perché si acquista lì attraversando ritornando la sfera solare si acquista un particolarissimo senso quasi fisico della individualità cioè della realtà individuale di un essere si comincia cioè uscire da quella totalità di cui parlavamo prima che è stata espressa dal dottore molto bene sul sole si acquista questo importantissimo senso dell'autonomia individuale e poi così via adesso abbiamo capito su venere per esempio si acquista la capacità di un'estrema dedizione ai compiti terreni io ho sempre ammirato queste persone che fanno un piccolo lavoro per esempio l'ecopisteria quasi noioso con una precisione del loro compito e lo fanno come se stessero operando a cuore aperto bello una bellissima qualità ecco a questo punto praticamente le strutture della nostra entità futura sono abbozzate ci manca però il dharma cioè l'habitat e infatti per prima cosa si sceglie la sfera della terra in cui incarnarsi ora se si tratta di incarnazioni lunghe e si sa quando l'incarnazione è lunga stando di là si può al massimo scegliere una sfera proprio quasi continentale cioè scegliere di reincarnarsi non so in Europa o in Stati Uniti nel Nord America eccetera perché evidentemente a distanza di secoli tanti stati per esempio sono scomparsi completamente quindi si sceglie più o meno una sfera o un'etnia la parolaccia con due zete vedete che non l'ho detta nemmeno oggi perché l'antroposofia non l'ammette ma se invece si ha la sensazione di un'incarnazione rapida beh si può scegliere addirittura il paese in cui incarnarsi insomma se uno nel 600 decideva di incarnarsi in Francia incarnandosi nell'800 la Francia era ancora lì parallelamente si deve scegliere la linea ereditaria dalla quale poi nasceranno i genitori e dai quali nasceremo noi e quindi si parte molto prima anche questo sempre rapportato all'intervallo sicuramente Nicola Cusano per rincarnarsi come Copernico nove anni dopo ha fatto tutto molto rapidamente e in questa scelta della linea ereditaria ci sono dei dilemmi non da poco dove dobbiamo essere aiutati da grandi da alte gerarchie perché si può scegliere una linea ereditaria gradevole fatta per esempio di situazioni che si possono prevedere molto agiate molto favorevoli ma non idonee a lasciarci a soddisfare il nostro karma cioè a stimolarci i cambiamenti che dobbiamo fare a livello animico e spirituale mentre invece ci può essere un'altra linea ereditaria familiare che si annuncia molto contrastata in piena di difficoltà in situazioni sociali disagevoli però magari lì c'è l'opportunità di correggere dei difetti gravi è un dilemma non da poco comunque la cosa più incredibile da dire in un'epoca in cui la medicina tende ad attribuire all'ereditarietà quasi tutto è che il futuro nasce duro è lui che istilla delle qualità nei genitori o le corregge per poterle ereditare poi quando nasce perché si sceglie in base a che cosa alle possibilità di una linea ereditaria di assecondarci nella nostra espletazione del futuro karma un'entità musicale come Bach derivata direttamente dall'armonia delle sfere in un modo miracoloso si è dovuta scegliere una famiglia in cui la costruzione dell'orecchio dei tre circoletti eccetera fosse perfetta e infatti nella famiglia Bach sono molti i musicisti è indispensabile se no questa sua capacità musicale non l'avrebbe potuta esprimere cioè qualcuno può dire ma il caso di Beethoven sì ma Beethoven è diventato sordo dopo e secondo me quella sordità l'ha portato l'ha costretto a percepire di nuovo la musica delle sfere le cose più sublimi ma questa è una mia teoria naturalmente non lo dice Duno Steyer quindi la potete trascurare tranquillamente ora si viaggia quindi in questa direzione e quando tutto sembra ormai ben accomodato c'è lo shock più grave qual è lo shock più grave che il lucifero tentatore quello che quasi ci aspettava nella sfera terrestre ci induce la tentazione a fermarci lì a non incarnarci ed è una tentazione grave perché a quel punto abbiamo accumulato molto abbiamo percorso tutto il percorribile in quest'epoca non si può fare di più abbiamo accumulato moltissime forze animiche spirituali potremmo vivere nel mondo spirituale con quello abbiamo anche ritestato il senso della singola autonomia del singolo individuo sul sole ripassando è una tentazione molto forte che nessuno può evitare e anche qui tutto dipende da come si arriva a quel punto perché mentre si ha questa tentazione un'anima ben sviluppata si rende conto che se si ferma lì esce dall'evoluzione cosmica si assimila all'entità retrograde perché chiaramente se l'evoluzione dell'essere umano come abbiamo detto prima non può fare a meno del passaggio terreno proprio nulla nel cosmo lo può sostituire chi rifiuta il passaggio terreno si estrae da solo da questa evoluzione cosmica rimarrà superato dagli eventi in continuazione in genere la stragrande maggioranza dei casi il buonsenso prevale con l'aiuto di notevoli gerarchie e si procede verso l'incarnazione e qui c'è un altro episodio un altro fenomeno rilevante quando moriamo scusate riassumiamo tutta la nostra esistenza in quei tre giorni e mezzo in cui vediamo tutta la vita intorno a noi come dicono di fare per esempio che sia accaduto ad alpinisti nel momento di precipitare che si sono rivisti tutta la vita intorno sì perché si è staccato l'eterico lì si è staccato per un attimo se no morivano qui invece la morte è super avvenuta quindi l'eterico si è proprio staccato e per tre giorni e mezzo l'io e il corpo astrale percepiscono tutti gli eventi della loro vita in forma di pensiero è un riassunto a questo punto invece c'è una visione premonitoria profetica della vita che ci accoglierà non è la stessa cosa perché il riassunto è quasi è proprio dettagliato non sfugge niente qui ha quasi una specie di sprazzo un flash però non è un flash vuoto di significato comunque le cose più importanti le prende tutte ora ammesso che tutto vada liscio tutto viene superato tutto è stato finalmente l'io prima si aggrappa si unisce si annette al corpo astrale poi al corpo eterico e alla terza quarta settimana di vita del neonato al corpo fisico tutto questo l'io lo può fare solo in uno stato di sonno sogno per tre e quattro anni perché nello stato di veglia si tratta di un processo così alto che l'umanità non è ancora pronta per accoglierlo ma succederà in futuro già dal sesto millennio e allora vedete che a questo punto il titolo di questa conferenza l'abbiamo realizzato dal cosmo tutte le sfere che vi ho descritto prima al microcosmo e chi è il microcosmo? è il neonato nella culla questo è proprio il senso di questo titolo e noi da questo che cosa dovremmo ricavare? ma se qualcuno veramente ha realizzato che rassa di impegno migliaia di gerarchie debbono mettere in atto per permetterci di nascere nella culla credo che dovrebbe ricavare un senso di responsabilità di fare molto di più della sua vita di quello che normalmente facciamo ognuno di noi potrebbe fare molto molto di più quella famosa comodità di cui parlavamo prima però se uno ha afferrato bene tutto questo nel sentire nel pensare e nel volere e qui c'è tre mesi per impegnarsi in questa assimilazione prima della nuova conferenza sempre te permettendo e credo che questo senso di corrispondere con un po' più di impegno a tutto questo sia abbastanza evidente e poi c'è la conclusione di questa trilogia qual è la conclusione di questa trilogia? questa trilogia si estende in due direzioni si è estesa in due direzioni il nostro rapporto con i defunti specialmente i nostri cari defunti e l'altra direzione è questo rapporto tra macrocosmo e microcosmo ecco per quanto riguarda la direzione la prima il rapporto con i defunti abbiamo già detto molto suggerito testi nelle prime due conferenze dedicate ai defunti qui che cosa possiamo aggiungere che prima di tutto quello che abbiamo detto ci sono due colonne d'Ercole voi sapete il significato misteriosofico delle colonne d'Ercole mitico eccetera eccetera Ulisse che parte dall'Asia minore per arrivare a Itaca arriva a fine delle colonne lasciamo perdere allora una di queste è proprio apodittica cioè per poter sperare di entrare in contatto con un defunto bisogna aver maturato nella propria anima un profondo senso di gratitudine assoluta e relativa assoluta che vuol dire gratitudine verso tutto quello che abbiamo descritto questa nascita è una stranata vita è un miracolo veramente è qualcosa di miracoloso quando diciamo che la religione del mondo spirituale è la creazione dell'uomo oggi abbiamo cercato di descriverla una cosa di una grandiosità impressionante verso tutto questo dovrebbe essere maturata una gratitudine autentica che non è mica facile perché se è fittizia se uno la sperimenta a livello di un sentimento superficiale ma il dottore dice che i veri sentimenti non sono quelli che si presentano naturalmente ma quelli che scaturiscono dopo un energico lavoro di pensiero e qui oggi vi ho costretto a farne parecchio di energico lavoro di pensiero questa è la gratitudine assoluta e poi c'è l'altra altrettanto importante che è la gratitudine relativa rivolgendosi a un defunto il primo sentimento che esprimiamo dovrebbe essere la gratitudine questo apre subito se è sincera una possibilità di contatto gratitudine per il tempo passato insieme bello brutto che sia gratitudine per aver condiviso la vita gratitudine per tutto quello in più che io adesso non posso elencare ma che ognuno può elencare se c'è questa gratitudine sincera verso il defunto il contatto si apre una possibilità se invece il primo sentimento è il rammarico per la morte qualche risentimento per eventi intercorsi durante la vita ora spiegherò perché non è possibile il contatto dopo che ho spiegato la seconda colonna e la seconda colonna è una fiducia anche questa assoluta e relativa fiducia in che? beh nella bontà intrinseca della vita e dell'esistenza dite ma è ovvio no 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 più arrivano le cattive notizie più io lo vedo dalle mail che mi arrivano dalle voci che sento e più la gente perde fiducia nel senso positivo della vita la perde come? e non è facile conservarlo assolutamente se fosse facile non ci sarebbe bisogno di queste conferenze che possono dare soltanto un granellino d'aiuto come il resto lo dovete fare voi questo senso di fiducia sull'esistenza per esempio si dovrebbe strensegare in una convinzione che il male comunque è temporaneo anche se è gravissimo il male è temporaneo prima o poi una guerra deve finire certo se l'uomo fosse più evoluto non ci sarebbe bisogno di tutto sto male ma questo è uno dei contrappassi della libertà si può andare verso l'alto o verso il basso e la fiducia relativa cos'è? ma fiducia in tutto quello che abbiamo descritto se uno pensa non è sicuro che il defunto continui a vivere che abbia un'esistenza degna di questo nome che si prepara allora se dubita che dopo la morte non ci sia niente che se gli manca questa fiducia completa nell'esistenza in vita del defunto e che contatto volete avere perché è impossibile? perché questa gratitudine questa fiducia qui sono due sentimenti nel mondo in cui vive il defunto sono due realtà come l'acqua e l'aria non può installare un contatto con un caro superstito sulla terra se quello gli chiude il rubinetto dell'acqua o sigilla tutte le paredi e non entra l'aria non so un paragone un po' blasfemo un po' stupido quindi evidentemente non è di Rudolf Steiner per il defunto gratitudine e fiducia nella vita sono le due materie in cui vive sono le due sostanze in cui si esprime se un terreno un superstito della terra si rivolge a lui senza queste due quella persona per lui non esiste proprio e questa è la prima direzione e poi c'è la seconda quella dal macrocosmo al microcosmo beh l'abbiamo vista bene abbiamo detto che il padre è la realtà di tutto ciò che poi prenderà forma fisica Dio dello spazio il Cristo è la realtà che proviene dal sole dove si tesse il tempo e il Dio del tempo lo Spirito Santo è la realtà che ci deve riportare in un corpo fisico e questo è la sintesi della nostra esistenza di esseri umani in quest'epoca ex Deo nascimur in Cristo morimur per Spiritum Santum revivissimus se vuoi conoscere i libri di cui parla questo video clicca sull'icona che trovi a sinistra dello schermo visualizza i prodotti e si aprirà il menu sempre aggiornato sono aperte le iscrizioni al convegno del professor Leonetti domenica 7 aprile a Perugia dalle 10 alle 13 il convegno è gratuito per prenotarsi cliccare ai link che troverete sotto al video in info box nella sezione prodotti e nel sito shop cavuresoterica.it alla voce eventi e corsi la modalità di iscrizione segue la procedura del nostro sito quindi aggiungete il seminario al vostro carrello al prezzo di 0 euro riempite il form con i vostri dati e procedete al check out riceveremo la vostra prenotazione e vi invieremo conferma attenzione i posti sono limitati vi preghiamo in caso di disdetta di comunicarcelo tempestivamente scrivendo un'email a cavuresoterica chiocciola.it o telefonandoci allo 075 57 29 198 ringraziamo i nostri abbonati al canale grazie ai quali è stato possibile realizzare questo evento grazie ancora di sostenerci